Immagino di essere in un processo dove tutti sono attori, tranne te. È la premessa di questa serie TV di Prime Video, dove giudici, avvocato, testimoni e tutti giurati tranne uno stanno seguendo un copione. È divertente vedere queste situazioni che diventano sempre più assurde e vedere questo tipo, che fondamentalmente è uno normale come me e te, che reagisce a tutto questo. A me non piacciono queste robe tipo Candy Camera perché si ride troppo della persona. Tipo, ah, guardalo, pensava di essere arrestato e ha pianto e si è pisciato sotto, invece era tutto finto. Invece qui fa ridere perché non cercano di metterlo in difficoltà, ma anzi è il mondo attorno a lui che si fa sempre più bizzarro, mentre lui invece è un tipo tranquillo, una persona per bene. Questa serie si chiama Jury Duty o Il Giurato e la trovi su Prime Video. Sarà tutto vero? Sarà tutto falso? Lascio a te decidere. E tra tipo pochissimo esce su YouTube un video in cui parlo di questa serie e di altre serie che mi sono piaciute in questi ultimi periodi, quindi vado a vedere. Tipo, per favore, grazie.